il parto titolo all'alba donna tota arrivò in un ospedale del barrio di lanus aveva un bimbo in pancia sulla soglia trovò una stella sotto forma di spilla gettata a terra la stella brillava da un lato e dall'altro no è quel che succede con le stelle quando cadono sulla terra e sulla terra si crogiolano da un lato sono d'argento e brillano evocando tutte le notti del mondo e dall'altro lato sono soltanto di latta quella stella d'argento e di latta stretta in un pugno accompagnò donna tota durante il parto il neonato venne chiamato diego armando maradona grazie mo se magna si si beve pure sentono dolore